10 minuti con voi, 5 chilometri, tecnica classica, equivale a questo. Un saluto, grazie per essere qui, è bello essere con tutte voi e con tutti voi. Per me tutto è iniziato semplicemente in un luogo dove io sono nata, in via del bosco, nel bosco, in mezzo alle montagne della Carnia, dove l'inverno c'è tanta neve e dove a 4 anni e mezzo circa ho cercato di andare a prendere quegli scietti che mio padre mi aveva preparato e prima di condividere con lui ufficialmente la prima sciata, mio padre allenatore, Gaetano, io non sono stata capace di trattenere me stessa. Ho preso quegli scietti, li ho infilati e sono partita. Era la mia primissima esperienza, chiaramente, in un mondo nuovo, in un mondo che mi ha cominciato a insegnare, ad ascoltare, ad avere il moccolo che cadeva giù, a sentire un freddo cane, a non capire più dove andavano gli sci, dove andavano i miei piedi, a ritrovarmi per terra subito dopo congelata, a cominciare a frignare e a dover abbandonare quegli sci per andare poi a piedi a raggiungere mio padre che stava al forno e faceva il pane. Allora mio padre mi disse, mai più una cosa così. Quando si comincia una cosa, se la cominci a fare, devi arrivare fino in fondo. E con un tono sostenuto, ma accettabile, io imparai la lezione. Poi mia madre, invece, mi diede due scappellotti, quelli furono diversi, ma lasciamo perdere. Ma quel giorno, oltre alle parole, oltre a ciò che era successo, oltre a tutti questi fatti, una cosa bella era successa dentro di me, che in quei pochi passi, con quegli sci, con quel moccolo che veniva giù, con quel freddo forte, io ho sentito il mio cuore. Ho sentito che quell'elemento, quella neve, quel freddo, quel sole, quel blu intenso di quel cielo, erano gli elementi che io amavo, che mi piacevano un sacco. Io quella cosa lì la amavo, mi piaceva da morire. E lì ho cominciato a dire, questo è il mio sogno, fare qualche cosa di bello con quella cosa lì. E da lì ho cominciato a seguire quelle che erano veramente le orme di un allenatore, di mio padre, con la società sportiva. Ero piccolissima e lì atleti e atlete seguivano, seguono ancora adesso, ancora là, le nuove generazioni, i loro sogni, come io seguivo il mio sogno. E gli atleti, maschi, femmine, tutti insieme, si sciava, si stava insieme, si giocava. Eravamo noi stessi, io ero me stessa. Poi a un certo punto diventi signorina, no? Quell'età in cui sei un po' così. E allora capisci che qualcosa cambia. Capisci che qualcosa è diverso, perché le persone ti dicono cose diverse, perché ti dicono magari che devi comportarti in un modo diverso, le bambine non fanno questo, sono solo i maschi. I maschi poi devono allenarsi di più, le femmine devono allevarsi di meno, non mio padre, ma gli altri dicevano così. E allora ti rendi conto che veramente qualcosa cambia. E veramente dentro di te, quello che davi per normale, tutto quello che facevi, improvvisamente, da quello che chiamiamo la società, modo di essere, la scuola, i parenti anche, ti dicono, no, tu non puoi fare. Una signorina non fa quelle cose. Poi una signorina non deve fare quegli sforzi. Una signorina è una signorina. Allora io chiesi a mio padre, papà, non gli chiesi niente. Cioè gli chiesi, ma non gli chiesi. Però lui rispose, papà, cosa devo fare? Non ho fatto la domanda, ma cosa devo fare? Cosa succede? No, mio padre mi rispose. Noi parliamo la lingua friulana. Papà, ci succede? Mio padre mi rispose. Come ho? Come prima. Adesso? Come prima. E questo adesso, come prima, mi ha cambiato il mondo. Ha cambiato allora il mondo e lo cambia ancora adesso dentro di me perché mi ha creato il nucleo fondante della mia libertà. Perché quel giorno, quando io ho capito che non ero uguale agli altri, ai maschi soprattutto, che c'era qualcosa di diverso, ho anche capito che non ero libera. Ho anche capito che non potevo essere libera. Ma perché non ero libera di fare quello che volevo? Perché mi dicevano che lo sci nordico erano sport da duri, dove si diventavano brutti, brutali, e poi una donna non può essere così. Una donna deve essere molto bella, deve essere sempre a posto, mai sudata, deve essere sempre... Ma il mio sogno comprendeva anche se volevo sciare, se volevo fare qualche cosa di bello con gli sci e sulla neve. Io dovevo prepararmi, dovevo sudare, dovevo sporcarmi i vestiti di sudore, di quello che è un lavoro che bisogna fare. Allora come potevo fare questo? Beh, le parole di mio padre mi hanno creato il nucleo fondante della libertà di poter essere me stesso, la libertà di seguire un mio percorso, che poi, sin da piccola, è stato un percorso non ad ostacoli, di più che ad ostacoli. Un percorso dove giorno per giorno, non solo lo sport, ma soprattutto il vivere comune, l'andare a scuola, ti dicevano, ma no, tu non farai mai quello sport. Intanto è uno sport per maschi, poi è uno sport... Le italiane in quello sport non esistono, perché è uno sport per russe. Ma avete mai visto le russe? Come sono le russe? Non ho mai visto le russe, no? E questo non ho mai visto le russe, me lo sono ricordata, quando io quelle russe le ho viste, e le ho viste bene, e le ho viste ancora quando avevano anche la falcia e il martello ancora dietro la schiena, CCCP. E come le ho viste ho già perso 30 secondi in gara, perché c'aveva una cosa forte qui, perché erano le russe. Ma quel giorno quando io, sul percorso, in una gara, ho sentito che anche le russe puzzavano. Mi sono detta, sta a vedere che anche le russe fanno fatica, che anche le russe sono come me. E allora da quel giorno anche le russe sono arrivate seconde. Eh? Ma i pregiudizi, i pregiudizi, i predigiudizi attraverso cui un atleta deve passare, una donna deve passare, sono talmente belli, che io a un certo punto ho deciso di coccolarmeli tutti. Perché attraverso tutti questi pregiudizi, più c'era qualcuno che mi diceva, no, quello non è per te. Dico, questa è energia per fare. È un'energia per fare. E allora a un certo punto, quando, indubbiamente, portando avanti quello che vuoi fare nella vita, quello che vuoi essere, e soprattutto voler arrivare, chiedi quello che normalmente chiedono tutti. Chiedono la squadra maschile, aveva una bella squadra, gli allenatori, i tecnici, la squadra femminile stava nascendo. squadra femminile, gli sci nordico, chiaramente non avevamo tanti tecnici, non avevamo allenatori, eravamo la squadretta femminile. Beh, così forse non si riesce a vincere più di tanto. Quindi io chiesi di allenarmi con la squadra maschile. Perché per me, il maschio o la femmina, non c'è differenza. L'atleta è quello che vuole esprimere il massimo di se stesso, e questo non sta nella caratteristica del sesso, sta nella caratteristica della persona, che deve esprimere quello che di massimo lei deve esprimere. Quindi io dico, io voglio andare nel gruppo più bravo, che sia maschio o femmina, ma il gruppo che più mi insegna. E quindi accettai di andare e chiesi, e loro accettarono di mettermi in questa squadra maschile. Chiaramente questo fu un percorso bellissimo, un percorso che mi portò anche, tra l'altro, prima di entrare e iniziare l'ingresso nella squadra, mi portò anche a passare un grande periodo nelle terre finlandesi. Nelle terre finlandesi dove questo allenatore finlandese, occhi di ghiaccio, grande persona, cioè voleva testarmi psicologicamente. E lì, arrivata oltre il circolo polare artico, mi disse, tu allenare qui tutto il giorno. E io direi, non avere problema io allenare tutto il giorno. Peccato che non avevo capito che in Lapponia, c'è il sole 365, cioè nell'anno, sei mesi sono sole, 24 ore su 24. Quindi tutto giorno, era tutto giorno. Al di là di questo però, alla fine, arrivò dopo un po' di giorni, l'allenatore e mi disse, tu adesso parlare con me. Sono pronta. Mi guardò negli occhi e mi disse, tu, volere fare piccola casa o grande casa? E le dico, io, io parto da Paluzza, in provincia di Udine, ho il mio sogno, voglio fare qualcosa di bello nello sport. Io, dentro di me dico, cavolo, qui mi gioco tutto. Io volere fare, che ratta cielo. E da lì questo grattacielo mi ha insegnato chiaramente, ma veramente, che ci vogliono gli ingegneri, che ci vogliono i tecnici, che ci vogliono quindi gli allenatori, che ci vuole il gruppo. Tu esprimi te stessa singolarmente in gara, ma poi c'è tutto il gruppo che è con te in gara e tu sei con loro nei box o sul percorso. E questa è la forza che io mi sono trascinata quando ero io su quegli sci, mi trascinavo la loro forza sui miei sci. Ecco, questo è stato un lavoro bellissimo di gruppo che io ho fatto e essere il leader di un gruppo così, soprattutto negli ultimi anni, è stata una cosa bellissima. È stata una cosa che mi ha arricchita dentro in una maniera meravigliosa. e condividere col mio gruppo, ma ancora di più, condividere con le persone che mi hanno sempre seguita nel mio percorso sportivo, soprattutto quelle non sportive, quelle persone che hanno capito che anche a volte da momenti di grande difficoltà, come io ho avuto quando per esempio mi trovavo in un ospedale e quando succede che tutti i giornalisti anche ti dimenticano che esisti, che sei una grande campionessa, in quel momento hai anche dei problemi. In quei momenti lì ti ricordi quali sono le vere persone che contano e che devono far parte della tua squadra perché contano e ti rendi conto quelle che non contano. Ma quando hai fatto il discernimento tra queste due sei ancora più libera per dire che comunque quando sei su quegli sci quando esprimi quello che è il tuo amore per quella cosa e quindi dai il massimo di te stessa in quella cosa allora ti senti anche privilegiata perché hai la possibilità di poterlo fare per tutti quelli che anche da casa che anche da lontano ti seguono ma soprattutto sono a condividere con te la tua bandiera il tuo paese la tua nazione il tuo senso di appartenenza a quel mondo che è il mondo dell'Italia il mondo del tricolore appunto il mondo di gente che ti guarda e tu sei lì a viareggiare anche per loro perché tu li rappresenti questo è uno dei privilegi più belli più grandi più forti la condivisione con la tua nazione e poi io ho cominciato con un sogno fare qualche cosa di bello nello sport poi i sogni chiaramente ai sogni vanno raggiunti quelli che sono dei pezzi importanti in primis il cuore perché devi metterci tantissimo cuore e poi devi metterci tutto quello che è la tua capacità di amare non solo quello che è la parte tecnica dello sci ma di amare tutto quello che quello sci esprime nella storia nella cultura nella diversità dei popoli nella cultura diversa del esprimere e questa è stata credo la mia medaglia più bella raccogliere questo grazie grazie